I numeri della strage di migranti nel Mediterraneo lievitano almeno 700 morti in tre naufragi avvenuti negli ultimi giorni, sono le stime dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. A Reggio Calabria sono giunti 629 sopravvissuti e una quarantina di salme, la più piccola delle vittime, aveva otto mesi. Nel naufragio di giovedì sarebbero morti almeno 40 bambini. Ieri a Pozzallo, grazie alla testimonianza dei migranti, sono stati individuati e arrestati 4 dei presunti scafisti. Sarebbero i responsabili di uno dei barconi affondati che ha provocato centinaia di vittime. I superstiti della traversata hanno raccontato le prevaricazioni subite in Libia, i mesi di segregazione sotto la minaccia delle armi e poi l'imbarco in queste condizioni, imbarco per cui avevano versato fra i 300 e i 1000 euro ciascuno. Grazie. Grazie. Grazie.